Il bollettino Covid odierno riporta 33 casi di Covid-19 di età compresa tra 13 e 72 anni e rilevati su 4.085 tamponi processati, 1.980 molecolari, 2.105 antigenici con un tasso di positività dello 0,8% in salita rispetto a ieri quando era allo 0,47. Di questo aumento di casi, 7 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 12 alla provincia di Chieti, 5 a quella di Pescara, 11 a quella di Teramo, scendono di una unità quelli di fuori regione e sempre di una unità quelli per cui sono in corso, verifiche sulla provenienza. I casi totali di infezioni in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza sono 74.989 mentre quello dei decessi resta fermo a 2.512 non essendocene di nuovi. Invariati i ricoveri, sia quelli ordinari, 23, sia quelli in terapia intensiva, 1, senza alcun nuovo ingresso. Scende di una unità il numero dei pazienti in isolamento domiciliare, che sono 850. Sono invece 34 i dimessi guariti nelle ultime 24 ore, mentre scende di una unità il numero degli attualmente positivi in Abruzzo, 874. Nella nostra regione si parla molto della diffusione della variante Delta, la più contagiosa, quella contrassegnata dal più alto indice di trasmissibilità e che a qualche giorno fa risulta già quella prevalente in Abruzzo, avendo superato il 56% rispetto al totale delle forme di SARS-CoV-2 diffuse. Sull'argomento abbiamo interpellato il professor Jacopo Vecchiet, direttore della clinica di malattie infettive del Santissima Annunziata di Chieti. Non credo che in Abruzzo ci sia più variante Delta, credo che in Abruzzo venga cercata molto meglio e molto di più che in altre regioni. e questa è una nota di merito assoluto che va dato alle nostre strutture assistenziali. Tra questi numeri quello che emerge è sicuramente il fatto che la Delta stia diventando dominante. Quindi il problema non è tanto nell'immediato, però è chiaro che se nei prossimi mesi dovessimo avere una popolazione che non correttamente vaccinata dovesse confrontarsi di nuovo con il virus, potremmo avere sicuramente situazioni un po' complesse. Credo che il 2020 per fortuna non tornerà mai più, però è innegabile che in questo momento bisogna essere molto 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 prudenti. Il concetto è che il virus purtroppo, continuando a circolare, produce queste varianti. Quindi l'unica strada che noi abbiamo per evitare che lui faccia le varianti e inibirlo. E la vaccinazione è la strada migliore per evitare che appunto attraverso la circolazione lui possa produrre ulteriori varianti.